La bomba ecologica e ambientale rappresentata dal fiume Sele va affrontata con decisione, senza più rimpalli di responsabilità e scarica barile istituzionale. A Palazzo Santa Lucia si è riunito il tavolo per fare il punto della situazione sugli interventi per il corso d'acqua che attraversa il territorio salernitano. Gli incartamenti saranno poi consegnati al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Ma rischia di diventare, a parte una bomba ecologica, anche un segno dell'incapacità della politica di risolvere un problema. Ma questo perché? Perché ci sono un'infinità di enti che praticamente devono in qualche modo controllare, vigilare sul fiume e questo comporta disorganizzazione totale. Mettere a un tavolo tutti quanti gli enti preposti e farli dialogare tra di loro per capire chi deve fare cosa e in che tempi bisogna fare questa cosa. Il frutto sarà una relazione che invieremo al nostro Ministro Costa affinché anche da lì, dal Ministero, possa capire in che spazi si possa muovere per le proprie competenze e che aiuto possa dare agli enti. Si parla di task force, si parla di ulteriori controlli, i droni, c'è tutto quello che si può fare, lo metteremo in campo facendo, io credo, filiera politica con tutte le forze politiche. Quando parliamo di ambiente non parliamo solo di ambiente fine a se stesso, non parliamo di salute dei cittadini, ma parliamo soprattutto di economia perché su quel litorale gravitano comuni con i loro lidi, i loro alberghi, con il loro flusso turistico costante durante tutto quanto l'arco dell'anno e noi non possiamo permettere che la reputazione venga guastata di un territorio intero, venga guastata da pochi delinquenti che sversano oppure che gestiscono male magari a volte gli impianti di depurazione.